Sul progetto di abbattimento e ricostruzione della gelateria Punta Lido verrà avviata un'istruttoria pubblica. Grazie ai cittadini rivani abbiamo raggiunto il numero minimo di firme per presentare una petizione e richiedere un'istruttoria pubblica, hanno commentato Arturo Matteotti e Flavio Prada, consiglieri per il Movimento 5 Stelle. È una procedura prevista dallo Statuto del Consiglio Comunale di Riva del Garda, finora mai utilizzata, grazie alla quale si discuterà pubblicamente del caso con relatori, esperti e cittadini. La raccolta firme continuerà anche domani con un gazebo in centro a Porta San Giuseppe e nel pomeriggio a Rione De Gasperi.